diventa un master di youtube ads grazie ad un solo video ed in questo video andrò a spiegarti esattamente come creare le tue campagne su youtube partendo da zero, le tattiche e le strategie che utilizzo personalmente per i miei youtube ads e per le inserzioni pubblicitarie su youtube dei miei clienti quindi non perdere altro tempo, guarda il video fino alla fine perché ti sarà utile al 100% tutto questo dopo la sigla e benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovissimo tutorial su youtube ads quindi andremo a creare youtube ads da zero, annunci su youtube da zero vi insegnano esattamente come iniziare e come fare e come creare la vostra campagna su youtube ovviamente youtube fa parte del mondo google quindi creeremo le nostre campagne da zero tramite google ads prima di iniziare vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale proprio in questo momento sotto questo video e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video che vi saranno sicuramente utili detto questo ragazzi iniziamo subito quindi dal nostro account google creato da zero andiamo a creare la nostra nuova campagna e selezioneremo creare una campagna senza un obiettivo ovviamente per creare il nostro ad su youtube dobbiamo assicurarci di collegare il nostro youtube account al nostro google ads quindi come vi ho già mostrato nell'altro tutorial su google ads dovete collegare assolutamente il vostro youtube account quindi createlo da zero se non lo avete e lo collegate attraverso appunto strumenti impostazioni youtube e ovviamente dettagli e collegate il vostro canale youtube quindi collegato il nostro canale youtube andremo a creare una campagna senza un obiettivo e ovviamente selezionare la campagna tramite video va bene? vi ricordo che tutte le altre sezioni che l'ho già spiegata nell'altro video tutorial su google ads che trovate qui in alto a sinistra oppure nel mio canale ve lo andate a cercare e anche per quanto riguarda la campagna google shopping che riguarda prima di tutto i venditori e-commerce di prodotti fisici in dropshipping oppure tramite brand quindi prodotti già acquistati in precedenza con il loro logo sopra quindi ragazzi se volete vendere tramite google ads shopping vi consiglio di andare a trovare e vedere il mio video su google shopping ads sempre nel mio canale lo trovate e quindi ve lo andate a vedere quando volete quindi selezionato il nostro tipo di campagna andiamo a selezionare un sottotipo di campagna quindi vedete bene che qui abbiamo diverse opzioni campagna video personalizzata in stream non ignorabile out stream genera conversioni e sequenze annuncia adesso andremo a spiegarle tutte quante ovviamente e infine la sezione il sottotipo di campagna shopping per promuovere i prodotti pertinenti e incentivare gli acquisti sul tuo sito web con gli annunci stream ignorabili direi che questa sezione la possiamo includere nel video del google ads shopping quindi non vi preoccupate andate a vedervi direttamente google ads shopping per appunto capire veramente come vendere i vostri prodotti fisici tramite google ads quindi prima di tutto iniziamo con la spiegazione di campagna video personalizzata e continuiamo adesso sta creando la nostra campagna ok perfetto prima di tutto ovviamente selezioneremo il nome della campagna in questo caso vabbè lasciamo così perché stiamo facendo un tutorial quindi non ci serve personalizzarla ovviamente ragazzi per mantenere tutto organizzato soprattutto per quanto riguarda il vostro google ads manager voi dovete assolutamente descrivere ogni campagna con il nome corretto in modo ovviamente da tenere tutto organizzato e confondervi il meno possibile soprattutto quando avete tante campagne da analizzare ora in base alla strategia d'offerta ovviamente noi dobbiamo analizzare esattamente qual è la nostra strategia d'offerta migliore vedete qui le seguenti strategie di offerta non sono disponibili in questa campagna cpm massimo non è disponibile per le nuove campagne al suo posto seleziona strategia di cpm costo per mille target in questo caso lo stesso il costo per mille visibile questa strategia d'offerta non è disponibile a caso del sottotipo dell'obiettivo e anche questo ovviamente in base quindi per ogni diciamo obiettivo della campagna noi possiamo utilizzare diverse tipologie di strategie di offerte ragazzi in questo caso abbiamo il cpv massimo e il costo per mille target ok? quindi prima di tutto andiamo a spiegare il cpv massimo quindi generare il visualizzazione, il costo per visualizzazioni mentre il cpm è il costo per mille impressioni il maggior numero possibile di conversioni per il costo per azione quindi il cpa target impostato il maggior numero possibile di conversioni nei limiti del tuo budget quindi il cpv massimo è l'ammontare della tua offerta che indica l'importo massimo che intendi pagare per una visualizzazione ragazzi mentre il cpm massimo quindi il cpm target possiamo selezionare andiamo a vedere il cpm target che dice cpm target è l'ammontare della tua offerta che è indicata dall'importo medio che intendi pagare per ogni mille visualizzazioni mille volte che l'annuncio viene mostrato quindi mille visualizzazioni, costo per mille impressioni va bene? solitamente utilizzo sempre i parametri legati al costo per mille cpm perché sono abituato o comunque mi trovo meglio personalmente mentre il cpv comunque potete utilizzarlo per comunque se per iniziare magari a capire come funziona anche il cpv massimo comunque ragazzi ovviamente testate tutto quanto io comunque per il momento utilizzerò il cpm target perché ovviamente sono più abituato a utilizzare il costo per mille impressioni vedete qua target ti consente di impostare l'importo medio che sei disposto a pagare per ogni mille impressioni questo l'abbiamo già visto impostato Google Ads ottimizzerà le offerte per aiutarti a ottenere il maggior numero di impressioni possibili quindi ragazzi in questo caso ovviamente noi sceglieremo appunto andiamo a vedere il cpm target e Google ci aiuterà a ottenere quel risultato in base al cpm target che noi gli andremo a fornire alcune potrebbero avere un costo maggiore e un minore rispetto a quello target quindi se noi per esempio vogliamo un cpm target di 10 euro Google farà di tutto per orientare le nostre campagne verso quel cpm target ragazzi quindi mi raccomando fate bene i vostri calcoli analizzate bene i vostri dati e sicuramente Google vi farà spendere il meno possibile voi investirete ovviamente meno in pubblicità e il vostro ROI e il vostro ROAS saranno più alti quindi voi avrete un margine di profitto più alto vi ho detto qui inseriremo 100 euro per adesso ok appena vedi che gli annunci vengono approvati va bene oppure potete selezionare la data di domani o quella di dopodomani come volete ok reti ora reti in questo caso dobbiamo selezionare dove gli annunci verranno visualizzati esattamente quindi risultati di ricerca YouTube gli annunci possono essere pubblicati a fianco dei risultati di ricerca di YouTube puoi utilizzare solo annunci video discovery quindi dove verrà mostrato il nostro annuncio di YouTube principalmente in questo caso non possiamo selezionare non vi posso far vedere la preview ve la farò vedere con un altro sottotipo di campagna come vedete questa rete pubblicitaria non è disponibile a causa del sottotipo dell'obiettivo della strategia d'offerta di questa campagna tuttavia dopo ve lo mostro non vi preoccupate praticamente viene appunto quando cercate un video su YouTube vi compare lì sotto quindi può comparire anche sulla home in certi casi vedete anche qui con i video YouTube può comparire sulla home tuttavia se volete che sia diciamo l'add sia un po' più statico quindi che risulti appunto magari nei video suggeriti o in altri appunto nella sezione ricerca voi vorrete fare volete selezionare la rete risultati di ricerca di YouTube mentre in questo caso noi possiamo selezionare solo video YouTube o partner video sulla rete display attraverso appunto i partner video che ti consentiranno di raggiungere nuovi segmenti di pubblico al di fuori di YouTube quindi per siti esterni a YouTube mentre qui i video YouTube proprio i veri e propri annunci su YouTube principalmente appunto possono essere visualizzati nei video nelle pagine del canale nella home page di YouTube quindi annunci in stream o video discovery che adesso andremo a mostrare come ho detto specificato nell'appunto nell'altro tutorial di Google io solitamente utilizzo lascio tutte le lingue perché semplicemente se qualche utente italiano sta utilizzando YouTube tramite app oppure sul desktop su computer quindi su PC lo sta utilizzando in un'altra lingua che può essere l'inglese per esempio non verrebbe targhizzato dalla nostra campagna quindi noi vogliamo che chiunque si trovi in Italia venga targhizzato indipendentemente dalla lingua quindi ragazzi ovviamente che viva in Italia quindi targhizziamo Italia tutte le lingue ora tipo di inventario lascieremo l'inventario standard perché l'inventario che appunto verrà seleziona un tipo di inventario per pubblicare annunci con contenuti pertinenti al ton brand generalmente io lascio sempre l'inventario standard non è un problema poi voi se avete delle esigenze particolari potete tranquillamente selezionare e studiarvi di più l'inventario comunque in generale va più che bene inventario standard è automatizzato da YouTube quindi va benissimo contenuti esclusi qui possiamo escludere delle categorie di contenuti sensibili appunto se magari non lo so cosa state vendendo però potete escludere delle determinate contenuti dei determinati contenuti etichette in questo caso video incorporati selezioni di tipo di contenuti da escludere quindi video incorporati video streaming live quindi ragazzi in questo caso anche potete escludere queste tipologie di contenuti comunque ragazzi in base ovviamente a quello che vendete comunque io solitamente queste esclusioni di contenuti non li tocco affatto quindi potete tranquillamente non toccarli neanche voi ottimizzazione selettiva imposta al monitoraggio delle conversioni per questo account puoi monitorare il rendimento della tua campagna rispetto agli obiettivi della tua attività quindi semplicemente noi possiamo impostare il monitoraggio delle conversioni e creare un evento conversione va bene ragazzi soprattutto se noi vogliamo per esempio convertire in acquisto tramite il nostro sito Shopify e-commerce oppure convertire tramite l'acquisto del nostro per esempio acquisto di un infoprodotto sul nostro sito ClickFunnels quindi ragazzi mi raccomando create il vostro obiettivo conversione molto semplice qui vedete il sito web e andrete a inserire acquisto facciamolo velocemente acquisto ok valore utilizzo stesso valore per ogni conversione metteremo 50 euro ok tutte va bene qui ovviamente ve l'ho già spiegato tutto questo in verità già ve l'ho spiegato nell'altro video Google Ads Tutorial come creare la vostra nuova azione di conversione quindi ragazzi ve lo trovate nel mio canale se volete diciamo un'analisi più approfondita comunque ve lo sto creando così velocemente potete lasciare tranquillamente tutto così altrimenti se volete approfondire l'argomento vi rivedete appunto questo topic nel video nel video del Google Ads Tutorial va bene quindi qui installeremo il nostro tag autonomamente oppure tramite Google Tag Manager spiego tutto ragazzi ripeto nell'altro video quindi se volete approfondire questo capitolo lo trovate nel video di Ads Tutorial quindi possiamo continuare ok abbiamo dopo aver inserito il nostro la nostra azione di conversione selezioniamo i dispositivi ovviamente mostra tutti i dispositivi idoni quindi computer dispositivi mobile tablet tv in questo caso ragazzi come al solito dipende dalla cosa state vendendo da che nicchia da che tipologia di persona da che cliente target state volete convertire quindi ragazzi principalmente potete utilizzare tutti i dispositivi o lasciare per esempio solo mobile o solo tablet quindi diciamo targhizzare in maniera specifica il dispositivo oppure lasciare tutti i dispositivi idoni e vedere quale dispositivo converte di più quindi quale dispositivo ha un click through rate più alto quindi quanto è capace quel lad e quel dispositivo di portare traffico sul tuo sito web oppure magari un dispositivo a un cpm più basso quindi vorremmo pagare meno le nostre pubblicità e le nostre campagne i nostri annunci quindi ragazzi testate tutto possiamo lasciare quindi mostra tutti i dispositivi idoni quota limite limite frequenza impressioni limite frequenza di visualizzazione le lasciamo assolutamente vuote quindi senza senza quindi selezionare le caselle perché non vogliamo limiti per le nostre campagne vogliamo che google autonomamente selezioni diciamo il miglior risultato possibile tramite l'algoritmo quindi assolutamente pianificazione annunci se volete pianificare i vostri annunci per esempio dalle 8 di mattina alle 13 ok questo è il nome gruppo annuncio dati demografici in questo caso iniziamo la parte dove si targetizza ragazzi fondamentale la targetizzazione su youtube potete veramente sbizzarrirvi potete selezionare il cpm target ora vi faccio vedere brevemente come funziona il targeting quindi dati demografici proprio come succede per il google ads quindi gli annunci su google anche su youtube noi possiamo selezionare appunto se donna uomo l'età è lo stato parentale e il reddito del nucleo familiare solo in certi paesi ok per esempio in italia non possiamo targhezzare il reddito del nucleo familiare ma come ho già mostrato nell'altro video negli us quindi negli stati uniti possiamo targhezzare per reddito del nucleo familiare capite che è un bel vantaggio in quanto possiamo selezionare in base al reddito percepito da ogni persona quindi più o meno possiamo sapere quanto guadagna quanto potere d'acquisto a quella persona o quel pubblico target quindi ragazzi molto potente come strumento quindi qua selezione monetà stato parentale eccetera eccetera in base ovviamente a quello che state vendendo un esempio pratico potrebbe essere quindi la targhezzazione di di donne che hanno appena avuto bambini quindi potreste selezionare i configli dai 25 ai 34 anni o dai 18 ai 24 anche ai 35 e 44 e possiamo quindi targhezzare delle donne che hanno avuto figli o hanno figli e ai quali compreranno dei determinati oggetti che saranno utili per loro ovviamente questo ragazzi è un esempio che vi ho fatto rapidamente potete comunque ovviamente analizzare esattamente il vostro pubblico tramite gli analytics di google ora abbiamo detto dati demografici segmenti di pubblico qui ragazzi come specificato anche per i google ads dovete assolutamente targhezzare in maniera più accurata possibile in modo appunto da trovare prima possibile quindi spendendo il meno possibile in pubblicità investendo il meno possibile in google ads ovviamente trovare il nostro target ideale per esempio noi vorremmo targhezzare solamente un segmento di pubblico alla volta o un segmento di pubblico oppure anche in questo caso vedete abbiamo diverse opzioni interessi affinità segmenti di pubblico per il marketing per quanto riguarda appunto le azioni le campagne di retargeting ovvero le persone che hanno già interagito con la nostra attività con il nostro sito web e che possiamo retargetizzare in modo ovviamente da convertire farle convertire in maniera più facile ok segmenti di pubblico combinati le tue combinazioni di pubblico che potete creare qui cliccando qui poi più o meno vedete potete sfogliare potete divertirvi come volete ragazzi il suggerimento che vi do è assolutamente testare prima di tutto una cosa alla volta mi raccomando altrimenti andrete a a dire a google se mettete per esempio se utilizzate più segmenti di pubblico più contenuti contenuti come parole chiave argomenti andrete a sfalsare un po' il funzionamento dell'algoritmo di google che andrà comunque a targheizzare diverse tipologie di pubblico anche se simili comunque diverse quindi vi consiglio fortemente di utilizzare un contenuto alla volta un argomento alla volta un posizionamento alla volta quindi non tutti insieme ok per esempio se selezioniamo una parola chiave nostro sito web per esempio montanabusinessonline.com ovviamente qui ci saranno le parole chiavi suggerite per esempio ecommerce ok e tutte le altre parole chiavi che potete utilizzare in questo caso ovviamente la pertinenza dovete controllare assolutamente anche le impressioni disponibili che in questo caso non ce le da però solitamente ce le da ci da proprio il numero esatto delle impressioni che possiamo ottenere dalla nostra campagna in base ovviamente al budget che stiamo utilizzando qui abbiamo delle diverse diverse parole come vi mostro anche nell'altro video utilizzate google trends oppure fate un'analisi delle parole chiavi che vengono più visualizzate su google e quindi sono potenzialmente più ricercate anche su youtube ragazzi fate le vostre ricerche quindi abbiamo detto parole chiave argomenti oppure posizionamenti ovviamente posizionamenti possiamo selezionare canali youtube qualsiasi cosa ragazzi per esempio se state targhizzando persone se state vendendo un prodotto per la cucina per la casa potete targhizzare un canale che parla appunto di articoli per la casa prodotti per la casa prodotti di cucina eccetera eccetera potete targhizzare il video potete targhizzare il canale contenuti più popolari comunque targhizzate in maniera più specifica possibile ragazzi soprattutto all'inizio per dare fornire più dati possibili al nostro pixel di google va bene che ovviamente ottimizzerà le campagne in base ai dati a disposizione quindi noi dobbiamo cercare di fornire i dati di qualità il più possibile ok abbiamo detto app possiamo targhizzare qualsiasi cosa argomenti in questo caso si più o meno come gli interessi di facebook vedete possiamo targhizzare consultazione finanza eccetera eccetera quindi in base ovviamente a quello che vendete ragazzi vi ricordo targhizzate una cosa alla volta altrimenti rischiate di falsare le vostre campagne google ads e soprattutto non analizzare in maniera precisa e perfetta i vostri dati che ricordo è la cosa più importante che avete nel vostro business conoscere esattamente il vostro cliente ideale e soprattutto chi sta comprando a voi perché quando in quale momento eccetera eccetera quindi l'offerta cpm costo per mille impressioni target indica l'importo medico intendi pagare per ogni mille impressioni quindi in questo caso noi offriremo a google 10 euro vi ricordo ovviamente che google come facebook youtube ovviamente funziona tramite aste quindi voi andrete a competere con altri advertiser quindi altre persone altri imprenditori che utilizzeranno in questo caso youtube ads per sponsorizzare i loro prodotti e fare pubblicità quindi ovviamente noi offriremo 10 ovviamente poi dovete regolare la vostra offerta in base al risultato che otterrete infatti alcune potrebbero avere un costo maggiore o minore rispetto a quello target ok ora aggiustamento delle offerte per contenuti principali principalmente ci da ci chiede se vogliamo successivamente come ci dice qui incrementare le offerte di una certa percentuale può aumentare la probabilità di pubblicare gli annunci video nei contenuti più popolari su youtube e sulla rete display quindi se vogliamo successivamente aumentare la nostra appunto l'offerta della nostra campagna quindi aumentare il budget tuttavia i contenuti principali di youtube sono validi solo in questi mercati quindi in questo caso l'Italia non c'è possiamo lasciare tranquillamente vuoto ora quello che dobbiamo inserire ovviamente è un nostro video per questo vi ho detto in precedenza di collegare il vostro canale youtube o crearlo da zero e caricare un video appunto un video pubblicitario che avete già utilizzato in precedenza oppure nuovo caricarlo sul canale youtube e ovviamente inserirlo qui in questo caso andremo sul mio canale youtube prenderemo un video a caso questo dei 73 mila euro 27 giorni prenderemo il link anzi prenderemo questo qua completo ok e lo copieremo qui ok abbiamo il nostro video possiamo scegliere in questo caso annuncio stream o annuncio bumper ok cosa significa annuncio stream semplicemente gli annunci stream sono quegli annunci che sicuramente vi sarà capitato di vedere quando iniziate a vedere appunto a guardare un video su youtube annunci stream vengono riprodotti prima durante o dopo un altro video su youtube o partner ovviamente come vi ho mostrato prima consentono ai utenti di saltare all'annuncio dopo 5 secondi per 5 secondi siete costretti a vedere i vostri utenti saranno costretti a vedere a vedere ovviamente il vostro il vostro ad tuttavia ragazzi quello che dovete tenere ben a mente che voi non pagate nei 5 secondi il vostro annuncio per ogni annuncio visualizzato per 5 secondi ma bensì come andiamo a vedere qui sulle informazioni su formati degli annunci video dove è dove è ok funzionamento dove possono essere pubblicati gli annunci in aree display ok quali criteri eccolo qui con quali criteri viene eseguito la debito con l'offerta basata su cpv paghi quando uno spettatore guarda 30 secondi del tuo video o l'intera durata se è più breve di 30 secondi e vi interagisce a seconda dell'evento che si verifica per primo con l'offerta basata su cpm paghi in base alle impressioni se noi abbiamo cpv andremo a pagare vi ricordo che prima abbiamo selezionato cpm target ma potevamo selezionare anche costo per visualizzazioni quindi con l'offerta cpm target noi paghiamo indipendentemente dal risultato ogni mille impressioni dell'annuncio mentre con il cpv pagheremo solamente dopo i 30 secondi del video quindi ok ragazzi quindi tenete ben a mente questa questo a debito come funziona e ovviamente fate correre le vostre campagne in base al risultato che volete ottenere e soprattutto testate con il cpm target testate con il cpv e assolutamente rendetevi conto e analizzate i dati di cosa sta funzionando e cosa no e soprattutto quale annuncio sta funzionando meglio va bene per quale obiettivo della campagna possono essere utilizzati gli annunci stream lead traffico sul sito web notorietà del brand considerazione ok questo all'inizio ci fa scegliere ovviamente l'obiettivo quindi avete capito come andremo a pagare i nostri annunci in questo caso cpm abbiamo detto ma qui possiamo selezionare anche cpv va bene rimettiamo cpm quindi ok cpm target 10 va bene quindi abbiamo spiegato gli annunci stream semplicemente mentre gli annunci bumper in questo caso un annuncio bumper è un breve video che viene riprodotto prima durante o dopo un altro video quindi come accade per l'annuncio stream tuttavia il video deve avere una durata massima di 6 secondi e gli utenti non possono ignorarlo quindi sono quei video che non possono essere schippati e paghi in base all'impressione ovviamente o il numero di volte in cui l'annuncio viene pubblicato va bene anche in questo caso se andiamo a analizzare le informazioni è lo stesso vedete cpv e cpm sono lo stesso sono gli stessi criteri di addebitamento che avvengono per gli annunci stream quindi ragazzi tenete bene in considerazione quando venite addebitati e quando no quindi in questo caso inseriremo montanabusiness il vostro link in questo caso montanabusinessonline.com potete inserirlo anche qui una volta magari ok va bene opzioni con l'annuncio avanzato non ci interessa ora infine possiamo selezionare un banner quindi una diciamo un'immagine di anteprima qui come la preview del nostro del nostro annuncio come sarà vedete qui i vari youtube e partner video google quindi possiamo generare automaticamente utilizzando i video del tuo canale ovvero utilizzerà l'immagine di copertina del mio video in questo caso questa qui o potete semplicemente aggiungere un'immagine vostra che avete già preparato ovviamente con le dimensioni consigliate e dimensioni massime e quindi selezionare la vostra anteprima la vostra immagine quindi abbiamo creato il nostro annuncio nome dell'annuncio qui abbiamo la preview creiamo la campagna selezioniamo la data mettiamo 2 ok vedete qua adesso abbiamo tutti i dati che prima non ci dava perché non avevo inserito la data e semplicemente adesso abbiamo 20.000 impressioni in base all'impostazione della campagna al budget all'offerta rendimento stimato in base al targeting all'impostazione a un budget totale della campagna di 100 euro un'offerta ai 10 euro impressioni dalle 10.000 a 19.000 alle appunto cpm 5.69 ai 10 euro e budget speso da 53% al 100% quindi potrebbe anche non spendere tutto il mio budget in questo caso e ovviamente ottenere questi risultati medi ok creiamo la campagna vedete qua ci fa un riepilogo della nostra campagna e ovviamente la nostra campagna sarà pronta quindi ragazzi avete visto come creare la vostra prima campagna su youtube ora vi continuo a spiegare le varie di campagna quindi abbiamo qui la selezione dell'obiettivo prima abbiamo selezionato una campagna senza obiettivo ma potete semplicemente selezionare l'obiettivo per esempio di vendita o di lead generation o traffico sul sito web brand awareness promozione di un'app in base ovviamente al vostro obiettivo o quello che state vendendo quindi abbiamo spiegato precedentemente la campagna video personalizzata l'estream ignorabile non ignorabile condivide l'intero messaggio con annunci stream non ignorabili della durata in massima di 15 secondi in questo caso sono appunto video in stream non skippabili ok semplicemente come è avvenuto nel nostro annuncio precedentemente annunci stream ignorabili in questo caso non sono ignorabili quindi invece di annunci bumper di 6 secondi in questo caso noi possiamo utilizzare il video di 15 secondi ragazzi quindi veramente ottimo non serve che ve lo rispiego perché ha lo stesso funzionamento della campagna video personalizzata appunto come ho detto in precedenza la campagna video personalizzata ci da comunque più manovra in generale quindi stream abbiamo già spiegato semplicemente non ignorabile invece la campagna outstream semplicemente raggiunge gli utenti su cellulare e tablet utilizzando l'offerta basata su cpm visibile adesso andiamo a spiegare brevemente come funziona continua ok cpm visibile semplicemente sarebbe il costo per mille la montata della offerta indicata dall'importo massimo che intendi pagare per mille impressioni visibili dell'annuncio costo per mille impressioni quindi il cpm per gli annunci video un annuncio viene considerato visibile quando ne viene visualizzato almeno il 50% sullo schermo per almeno due secondi quindi ragazzi questa diciamo una tipologia un po' diversa rispetto al cpm target quindi quando viene visualizzato almeno il 50% per almeno due secondi se no andiamo qui a creare il nostro annuncio vi faccio vedere brevemente come funziona vedete che è visualizzabile solamente sui partner di video quindi no su youtube e quindi capite bene che è una tipologia di target un pochino differente che va appunto out quindi fuori da youtube ma che ovviamente può essere ottima soprattutto per un'azione di retargeting ma potete utilizzarla anche per appunto far scoprire il vostro brand a zero se quel partner di youtube o di google funziona comunque ragazzi è tutto un test mi raccomando testate e troverete comunque la soluzione per i vostri per i vostri annunci quindi abbiamo spiegato anche la stream questo qui ci riporta indietro velocemente ok video invece genera conversione ovviamente genera più conversione con gli annunci video progettati per incoraggiare interazioni con la tua attività ora vediamo come funziona a differenza delle campagne precedenti e soprattutto del sottotipo di campagne precedenti noi qui abbiamo il sottotipo di generazione di conversioni che principalmente ci dà l'opzione di offerta cpa target e massimizzazione delle conversioni quindi andiamo a vedere la spiegazione di google cpa costo per azione dove è dove è cpa target eccolo qui google ads imposta automaticamente le offerte per consentirti di generare il maggior numero possibile di conversioni a costo per azione target quindi come più o meno succede per il cpm target automaticamente google andrà a cercare il nostro valore medio principale che ci aiuterà a convertire il più possibile in questo caso il costo per azione e precedentemente il costo per mille teni presente che ti verrà debitato un costo per mille di impressioni perché il cpa target individua automaticamente l'offerta cpm ottimale per il tuo annuncio ogni volta che questo ultimo viene mostrato quindi in questo caso daremo più manovrazione al google e al suo algoritmo quindi ragazzi prendete in considerazione assolutamente il cpa target se voi avete un soprattutto un breakeven roas quindi avete un valore prestabilito grazie al quale potete amministrare e gestire le vostre campagne quindi per esempio se noi vogliamo un costo per acquisto di 50 euro inseriremo il cpa target di 50 euro va bene quindi noi vogliamo spendere idealmente come esempio 50 euro per ogni costo per azione quindi magari in questo caso di conversione va bene cpia tipico target per una campagna video a 14 euro in questo caso ci appunto suggerisce youtube ce lo suggerisce youtube invece per quanto riguarda le appunto massimizzazioni delle conversioni vediamo qui che la massimizzazione di conversioni imposta automaticamente le offerte per consentirti il maggior numero possibile di conversioni nei limiti del tuo budget quindi idealmente google cercherà di spendere il meno possibile ovviamente farci convertire darci maggior numero un maggior numero di conversioni possibili questo significa semplicemente che google in base al nostro budget giornaliero per esempio 100 euro cercherà di fornirci e massimizzare conversioni quindi dandoci il maggior numero di conversioni possibili in base al nostro budget giornaliero va bene un mensile o totale della campagna come desiderate voi quindi vi ricordo comunque che google ha bisogno di un sacco di dati più dati possibili proprio come accade per il facebook pixel anche per google pixel google ha bisogno di dati ok le piattaforme pubblicitarie hanno bisogno di dati per appunto massimizzare grazie all'algoritmo i vostri risultati quindi più spendete meno spendete ragazzi metodo di pubblicazione lasciamo standard come abbiamo spiegato anche nell'altro video tutorial di google accelerato andrà a spendere più rapidamente il nostro budget mentre standard andrà comunque a armonizzare la spesa del nostro ad durante la nostra campagna anche in questo caso possiamo selezionare solamente video di youtube ok tutte le lingue paese abbiamo detto tutta la targarizzazione abbiamo detta anche in questo caso per esempio se selezioniamo il nostro video ovviamente sarà un annuncio in stream ok abbiamo già spiegato precedentemente quindi ragazzi focalizzatevi sul vostro obiettivo ripeto come sempre però ovviamente cercate di utilizzare il sottotipo ideale per le vostre campagne va bene quindi abbiamo spiegato anche la generazione delle conversioni il sottotipo generazione di conversioni ritorniamo alla nostra campagna video sottotipo di campagna ok e parliamo infine della sequenza di annunci quindi racconta la tua storia mostrando gli annunci in una determinata sequenza a singoli visualizzatori utilizzando annunci stream ignorabili annunci stream non ignorabili annunci bumper o una combinazione di questi annunci andiamo a vedere velocemente come funziona vedete qui possiamo utilizzare il cpm target e il cpv massimo che abbiamo spiegato precedentemente cpv massimo ammontare l'offerta indica l'importo massimo quantità di pagare per ogni mille volte che l'annuncio viene mostrato sì abbiamo descritto precedentemente budget sempre 100 euro giornaliero vedete qui le reti youtube in questo caso sempre solo annunci annunci video di youtube ok tutte le lingue italia va bene la targheizzazione è uguale alle altre tipologie di campagne impostazioni aggiuntive anche qui in questo caso possiamo vedete ottimizzare per acquisto che abbiamo creato precedentemente e addirittura ci dà la possibilità di selezionare le conversioni che vengono incluse nella colonna conversioni per questa campagna utilizzare lo smart bidding ok che semplicemente significa che appunto le costragie di offerta verranno ottimizzate per queste conversioni quindi le conversioni in questo caso di acquisto ragazzi va bene ovviamente voi dovete creare le vostre azioni di conversioni in base al vostro obiettivo dispositivi ok sempre abbiamo già descritti quota limite una sequenza prudente ogni 30 giorni in questo caso per quota limite ci dice esattamente che gli utenti non potranno vedere un passaggio più di una volta e non visualizzeranno una sequenza intera più di una volta entro 30 giorni questo quindi ci aiuta a non mostrare lo stesso ad alla stessa persona e soprattutto a non fargli rivedere lo stesso annuncio sempre alla stessa persona e ovviamente mostrarlo a più persone possibile a più clienti potenziali possibile ok abbiamo detto anche qui la pianificazione di annunci va bene abbiamo descritta ora qui vedete che la creazione del nostro ad è decisamente diversa crea passaggi della sequenza di annunci video possiamo creare diverse tipologie di annunci qua cpm massimo cpv massimo scusate 10 euro inseriremo e qui possiamo selezionare il nostro video va bene in stream ovviamente con il finale lo metteremo così possiamo iscrivere il nostro invitazione compra ora oppure entra ora anzi in questo caso perché il nostro sito web montanavisessonline.com ok va bene quindi copia qui incolla qui ok titolo crea il tuo business crea il tuo business crealo ora va bene questo per farvi vedere come funziona ok genera automaticamente va bene ok aggiunge una sequenza quindi ragazzi vedete semplicemente ci dà la possibilità di appunto creare diversi ad uno dopo l'altro quindi una sequenza di ad successivi pensa a ogni passaggio come un capitolo della tua storia del tuo prodotto del tuo brand potete iniziare un passaggio per suscitare interesse ricordare mettere in risalto un annuncio precedente offrire un messaggio di chiusura unificato quindi potete allungare il vostro ad il vostro annuncio in maniera appunto da creare una sequenza ragazzi come succede per esempio nelle storie di instagram vi sarà capitato anche sulle storie di instagram di notare degli ad degli annunci instagram nelle stories più di uno quindi voi skipate la prima e vi troverete la seconda la seconda sequenza ok quindi molto semplice anche qui assolutamente se avete magari un diciamo un video decisamente lungo lo volete dividere in sequenze o volete comunque creare una tipologia di annunci separata quindi nel primo video parlate magari del prodotto dell'offerta nel secondo video magari raccontate appunto la storia delle recensioni dei vostri clienti oppure di come gli è stato utile il vostro prodotto ragazzi vedete come è tutto nelle vostre mani potete creare qualsiasi tipo di annuncio partendo da zero qualsiasi tipo di campagna di sottocampagna obiettivo eccetera eccetera abbiamo spiegato praticamente tutto la diciamo la promozione tramite google shopping anche su youtube la descriviamo la spieghiamo meglio in un video apposito che trovate sempre nel mio canale google shopping ads è fondamentale ed è potentissimo per vendere i vostri prodotti soprattutto tramite e-commerce o shopify o anche tramite clickfunnels quindi ragazzi trovate tutti i link in descrizione andate subito a cliccarci non perdete tempo iniziate le vostre prove gratuite di 14 giorni adesso cliccando il link in descrizione e come al solito se a voi piace essere aiutati sono qui per questo e basta che mi scrivete tutte le domande se avete qualche domanda appunto sul google ads o sul social media marketing e-commerce digital marketing in generale tutto giù nei commenti vi andrò a rispondere personalmente a qualsiasi vostro dubbio andrò a selezionare il prossimo video per voi che dovete assolutamente vedere e che vi sarà al 100% utile quindi cliccate qui alla mia sinistra e continuate a vedere il prossimo video perché ci saranno un sacco di cose nuove da imparare un sacco di informazioni utili quindi cliccate qui alla mia sinistra e come al solito un grande saluto e ci vediamo al prossimo video un sacco di informazioni utile un sacco di informazioni utile che ci saranno un sacco di informazioni utile